Laura Tagliaferri, Maria Gianni Graziano e altre due persone hanno pubblicato qualcosa in potere al popolo, Laura Tagliaferri su Facebook. Laura Tagliaferri 25 settembre 2016 alle ore 22.17 la notizia è di quelle da far saltare sulla sedia. Secondo quanto riportato da Lila Aquilici in un articolo pubblicato sull'Espresso, la presidente della RAI Monica Maggioni il prossimo 8 ottobre sarà nominata presidente della Trilateral Italia. Un incredibile cortocircuito di potere che metterebbe nelle stesse mani da una parte il controllo del servizio di informazione radio televisivo pubblico e dall'altra la gestione della filiale italiana di una delle più importanti organizzazioni di interessi privati nel mondo.